Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono a presentarvi un'azienda di un ragazzo italiano che vive e lavora a Londra. La sua azienda si chiama Fotovoltaico per Camper e ha iniziato a commercializzare kit per camper completi. Questi kit per camper completi comprendono pannelli solari che possono essere uno, due o tre in funzione dei 100 o 200 o 300 watt, comprendono un regolatore di carica con due usb come vedete in foto da 30 ampere quindi dove si può collegare uno, due o tre pannelli solari monocristallini. Un inverter da 300 watt a onda pura che è come il mio, anche io ho un inverter da 300 watt ad onda pura e vi danno la possibilità di caricare il computer con cui vi sto facendo questo video, caricare i vostri smartphone, far andare piccoli elettrodomestici come un rasoio, come può essere un frullatore. Il kit si chiama kit camper 1.0 sul link che troverete in descrizione potrete vedere quelli che sono i prezzi del modello con un pannello, con due pannelli o con tre pannelli. È un prodotto che si trova online, è un prodotto che può essere montato su qualsiasi camper e abbiamo i pannelli monocristallini che sono flessibili quindi leggerissimi quindi tra pannello, regolatore di carica e inverter con i cavi io penso che saremo intorno ai due chili. Una volta che entrate sul sito di questa azienda potete chattare direttamente dal vostro smartphone avendo installato messenger direttamente con Daniel che è la persona con cui sto facendo questa collaborazione. Ciao, vi do un bacione a tutti e alla prossima!